è più facile di quello che credi ciao io sono Miss Biancola e questo è il mio canale dell'illuminazione dove vi insegno a applicare leggi attrazioni in maniera corretta e facile nella tua vita io sono anche su Instagram e Facebook sono due canali coadiuvanti a questo qui di Youtube di supporto trovi il link di riferimento qui sotto il box informazioni specialmente su Instagram ogni giorno posto frasi mantra, meditazioni, video insomma un sacco di materiale per la comprensione della legge di attrazione di come funziona l'universo, del tuo potere innato di co-creatore o co-creatrice e così via inoltre attiva un servizio di consulenza mirata, precisa e privata soprattutto perché logicamente in questi video io tratto in maniera generale poi ognuno le proprie esigenze questi video sono un'infarinatura per appunto riuscire a capire come funziona la legge di attrazione come funzionate voi ma poi ognuno ha i propri blocchi, i propri limiti, false credenze insomma delle cose su cui uno deve lavorare privatamente se gli va logicamente il servizio è a un piccolo prezzo per un breve periodo decine di volete già utilizzato con successo e trovi il link di riferimento qui sotto nel box informazioni e oggi andiamo a parlare di 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 allora terzo video raga mamma mia sto andando a treno poi soprattutto dopo il rent energetico sto proprio ciù ciù oltre che i red bull te mette ali raga realmente ok allora una cosa che non avete compreso in tantissimi è che quando voi chiedete qualcosa all'universo voi spesso lo chiedete in questo modo più o meno eh in questo modo a livello diciamo energetico allora universo dio spock yoda come vi piace a voi chiamarlo come preferite a voi chiamarlo un universo altrimenti non soffende potete dargli qualsiasi nome allora universo vorrei manifestare dei soldi sì ecco no vabbè però non credo che accada no no sì dei soldi un po non so mi piacerebbe 10.000 euro no papà c'è troppi fammo 5.000 no sì ma che mi dà vabbè sembra un verosimile no vabbè insomma sì se te va cioè nel senso io sto qui ci credo sì ci credo mi so questo è come se andasse se voi state al ristorante e viene a camminare che fredda signorina signorina signore che fredda e voi allora una frittura mista se ti va se vuoi se no vabbè forse costa forse è meglio una pizza no una pizza vabbè una piccola frittura mista piccola no vabbè no no vabbè prendo la frittura no forse è meglio una pizza cioè raga è normale che il cammino è stato cioè il vostro diverso sta così che no ma che cazzo vuoi cioè proprio così ragazzi cioè voi fate questo ve lo facevo anch'io ieri quando chiedevo una cosa avevo paura a chiedere quasi perché il mio ego già era lì a di me che stai chiedendo ma vedi questa ma ci ho pensato mi ha dato la commedia ciao ma no doveva più niente te Alberto Sordio ma che ma che cazzo devo dare a me quindi io ero totalmente sono giocato al mio ego e quindi non chiedevo niente se chiedevo chiedevo se vuoi non capivo non conoscevo l'universo come poi la cioè quindi stavo sempre a chiedere ciao oppure chiedevo e poi dopo due secondi i dubbi i dubbi cioè e quindi annullavo l'ordine no voi dovete imparare a chiedere con autorità così come dite il vostro nome come dite come mi chiami Giovanni io mi chiamo Giovanni come mi chiami Maria io mi chiamo Maria non lo dite con tentennamento neanche se una persona ti chiede come ti chiami tu è Giovanni Giovanni oggi mi sa Giovanni oggi cioè no non lo fate no quindi se vi chiedono una qualsiasi cosa che ne so siete italiani siete che ne so francesi voglio rispondere rispondere che d'inizio è non è che ti metti di francese oggi forse domani non lo so belga potrebbe essere no si non me lo ricordo guarda il passaporto un attimino se so francese realmente cioè non lo fate no o sbaglio non lo fate perché allora lo fate quando dovete chiedere qualcosa ve lo dico io vi do la risposta alla vostra miss lo fate perché il vostro ego sta lì a rompervi le palle a dirvi a mettervi tutti i dubbi e se poi te ne penti e se poi non succede e come potrebbe succedere e quando potrebbe succedere e come farai a manifestarlo e come che ansia cioè fate questo voi vi mettete addosso tutti questi dubbi quindi arrivate a dire arrivate a dire a non chiedere proprio o a chiedere in maniera confusa a chiedere in maniera cioè laconica in maniera così se te va dubbiosa il no voi dovete capire che il vostro rapporto ve l'ho detto centomila volte ma se magari se no al canale lo usate lo dico di nuovo il vostro rapporto fra voi e l'universo è tipo io sono il comandante e l'universo è il vostro timoniere ora se al timoniere ti avvicini e dici forse vorrei andare all'India no forse vorrei andare alle Americhe no vai ed è in ordine timoniere salpiamo rotta verso le Indie punto non ti metti a di no rotta verso le Indie questo è l'ordine dovete arrivare ad affermare con autorità e come si afferma con autorità innanzitutto esercizio non vi verrà subito ci dovete lavorare sopra ma soprattutto si arriva affermando con l'autorità credendo e lì buongiorno e buonasera perché capisco che non è easy peasy non è estremamente facile riuscire a convincerevi però riflettete su questo riflettete riflettete sul fatto che voi state già credendo ma in negativo quindi state già ordinando ma in negativo voi non ve ne accorgete ma vedo la news del momento del giorno della vostra vita voi state già credendo ma in negativo e ordinando il negativo perché voi state credendo volete manifestare Pinco Pallo come fidanzato vostro ora voi state credendo che Pinco Pallo non ve se schiopperà manco per sbaglio cioè manco se vi viene addosso per odio aspetta per sbaglio ve se schiopperà per sbaglio quindi state manifestando che appunto Pinco Pallo se ve vede pure che ve c'ha qui al parmo del naso suo chi chi è improvvisamente cieco cioè veramente non ve vede non vi vede non vi vuole e così via cioè proprio improvvisamente cioè proprio come se si è diventati invisibili manco per sbaglio vi vede perché cosa succede? succede che quello che state credendo in negativo state manifestando appunto nella vostra realtà voi state già credendo in negativo e state già manifestando in negativo ora è molto semplice che vi chiede disciplina ma è molto semplice dovete credere in positivo e dunque manifesterete in positivo dunque dovete ordinare all'universo in maniera non solo positiva col credo positivo che è possibile ma dovete ordinare con autorità come quando siete al ristorante cosa prende? una pizza margherita non è che vi mettete a fare trentamira no perdete ordinate non tentennate come vi chiami? Giovanni punto non vi mettete a tentennare no non lo so forse mi chiamo Francesco no dai no anche perché torna e ripete riflettete uno più uno due logica proprio matematica state già credendo in negativo e quindi manifestando in negativo quindi state già dicendo tanti di voi mi scrivo e mi dico non so capace a credere madonna non so capace a credere no no e se non sei capace a credere eppure stai credendo in negativo allora no allora vorrei dire che non so capace a credere positivo e allora indaga sul perché non sei capace a credere positivo scriviti ci sarà un video importante che ho fatto che si chiama come disarmare i credo negativi e trasformarli e riarmarli in positivo vi dovete allenare vi dovete allenare poi vedrete che arriverete a credere nel positivo perché state già credendo la questione è che voi state credendo ma nel negativo dovete portarvi a credere positivo quindi dovete arrivare ad affermare voi state già affermando e comandando però ma metà così state già affermando all'universo e comandando ma state affermando il negativo io credo che non manifesterò pinco pallo come mio fidanzato io credo che non manifesterò i 10.000 euro che mi servono quello state a fare state già affermando nel convinti perché siete così convinti dal vostro ego che non lo manifesterete quella non è una cazzo di comandamento di comando state comandando ma in maniera negativa ma state comunque comandando state comunque ordinando buongiorno 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 quindi potete fare comandarmi in positivo non è la questione che voi non sapete ordinare all'universo con pugno di ferro no voi lo sapete fa ma lo fate negativo non è la questione che voi non sapete credere no se lo sapete fa ma lo state fa negativo non è la questione che non so manifestare no lo state già fa ma è negativo penso proprio di sì cioè regà così quando affermate niente di intendamenti niente io vorrei io voglio io qui no affermate io intendo io la parola che utilizzo è più che consiglio io intendo manifestare una jaguar rossa che ne so o anche funziona comando io comando comando di manifestare picco panno come mio fidanzato che mi amava che mi vuole solo me desidera solo me però questo ci richiedere all'allenamento i primi tempi non vi verrà perché il vostro sarà tipo lì a dire manco il cazzo però voi più lì tate retta più comanderete ma è negativo se voi invece lo asfaltate dite no adesso è così così è così perché se te ascolto so dove vado a finire e io lì non ci voglio andare ok cioè si date a disciplinarsi e di comandare l'universo in maniera col pugno di ferro perché l'universo non sta lì a perdere tempo a dire se voi siete confusi l'universo è confuso se voi siete negativi l'universo è negativo lo sapete perché perché l'universo è voi siete un tutt'uno ok il vostro ego vi sta credendo siete split separati ma il vostro ego siete voi stessi ok quindi se voi siete confusi l'universo è confuso se voi siete negativi l'universo è negativo molto 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 semplice ok così semplice non richiede chissà quale super conoscenza molto semplice ve lo sta news l'universo siete voi siete fusi quindi l'universo sa perfettamente in che stato siete da animo vibrato e di lì c'è la conseguenza di quello che andrà a manifestare se voi state lì a pregare ti prego portami picco pallo come fidanzato però non so se è possibile come accade l'universo prende l'energia principale la vostra energia principale qual è? n'accade n'accade in tutto quel filo di parole che avete detto l'energia è solo una n'accade l'ercrata è solo uno n'accade quello dell'universo manifesta quello che non accade ok punto se voi ci invece ordinate con convinzione positività che questa è la mia parola ragazzo questa è la mia volontà sia fatta la tua volontà sia fatta la mia volontà l'universo capta l'energia principale l'energia principale che è è possibile che pinco pallo non che se innamorate me mi porta a hartare cioè e quello manifesta ma questo richiede allenamento voi pensate che se dire solo una volta una frase basti in realtà basta perché io dico solo una volta le cose quello che voglio ma perché ormai so perfettamente come canalizzare la mia energia come tengo al guinzale il mio ego e intanto dico quello che voglio cioè capite cioè questo punto e basta capite invece invece voi non lo sapete non solo comunicate al vostro universo quello che desiderate in maniera non convinta in maniera negativa in maniera confusa in maniera non so come non ci credo quindi che pensate manifestare no in più in più praticamente lo asfaltate a livello negativo cioè proprio che state di guarda è impossibile ma che è un manifesto è un possibile quindi state chiedendo l'impossibilità della manifestazione voi state chiedendo all'universo ma state chiedendo il negativo che vi manifesti il negativo e poi siete pure sorpresi che vaccate cioè siete pure sorpresi che vaccate quando accade il negativo no gli avete chiesto voi no non è vero si perché lo dicevo pure io pure io ero tipo no no invece si avevo chiesto le bocca del mio ego il mio ego meraviglioso negativo limitato impossibilità non se bo non se bo qui quindi imparate a chiedere con autorità e per chiedere con autorità vuol dire che avete la convinzione entro voi per affermare con autorità vuol dire che avete la convinzione voi questo richiederà del tempo mesi anni che ne so dipende da voi dipende quanto vi allenate quanto vi applicate io ho clienti che bam e clienti che ancora invece stanno a lavorare sopra ognuno ha il suo cammino ognuno ha un suo tempo di maturazione non è che tutti debotto uguali dipende dai propri credo quanti ne hanno quanto sono antichi quanto sono profondi quanto loro si apri quanto sono costanti quanto riescono a tenere abbata il proprio ego da tante cose tante cose dipende però dovete imparare appunto a gestire voi stessi a gestire il vostro ego a gestire la richiesta all'universo in maniera autorevole voi siete il capitano non potete andare a dire forse indie non ce credo cioè daie e poi dopo di perché non siamo andati perché non mi ci sta portando l'universo in attesa è il vostro comando comandate comandate come diceva Massimo Decimo Meridio al mio cenno scatetà nell'inferno al mio cenno uguale l'universo si spetta al cenno tuo però se tu io dai negativo non rimane il po' sorpreso oh madonna perché mi sei manifestato questa cosa negativa perché quello gli hai comandato sei il generale quello hai comandato quello hai comandato al tuo soldato gli hai detto quello danno a fare al tuo braccio destro quello perché sei stata dettata al tuo ego in negativo voi state già comandando in negativa state già credendo in negativa capite state già dichiarando all'universo in negativo tutto sui vostri occhi come diceva il maestro Rumi voi gicate per la camera in cerca della vostra collana andando stanza stanza per stanza quando ce l'avete già al collo le famose mazze chiavi o gli occhiali da sole che avete già in testa o in tasca già state facendo in negativo si tratta solo di discriminare la vostra mente voi non tentennate quando chiedete in negativo tentennate quando chiedete in positivo li tentennate perché il vostro ego sta lì col cazzo che lo tiene per questo questo è un altro motivo e voi li tentennate tentennate solo nel positivo nel negativo non tentennate mai fateci caso quanto è facile crede al negativo che non accade mai succede è impossibile quando un faccio è difficile credere al positivo sapete perché è difficile perché siete così condizionati al vostro ego che vi rende ciechi sordi a tutto quello che desiderate manifestare che di che stiamo a parlare di che stiamo a parlare di che stiamo a parlare ma voi dovete disciplinarvi dovete metterlo a guinzaglio ce ne sono strumenti guardate c'è il mio canale ormai va per i 200 video non avete giustificazione l'altro giorno mi ha scritto una persona mi ha detto ah no beh hai detto vado a vedere i video eh no allora ciao sarò cruda ciao ci sta del materiale ci sta di materiale perché penso di essere una delle poche che veramente dei pochi coach che veramente vi spiega tutto nel dettaglio e più cose diverse poi soprattutto se tratta cioè di investire in voi stessi o rimanete dostate non te basta la scelta è questa o investire in voi stessi nel vostro sapere nel vostro progredire o rimanete dostate e allora non ve lamentate come diceva a me il mio cosa quando a me non mannava viene di studiare o andare avanti l'universo era come allora non te lamentate voglio proprio senti non te voglio proprio senti non mi veni a rompere palle perché con me l'universo mi asfaltava allora non te lamentai vabbè rimani dove vuoi rimanere rimani nella pozza della negatività però non mi venire a rompere i coglioni perché il materiale te l'ho dato i download sono stati dati le cose ce le sai e se non ce le sai ti ho detto dove andarle a vedere a recuperare a studiare e se non lo fai un problema tuo punto io ora non so così cruda come l'universo però è così non ci avete scusanti comandate ma sta a voi decidere come comandate voi comandate sempre sta a voi decidere se state comandando l'universo in negativo o in positivo quindi poi otterrete quello che avete seminato quello che seminate raga raccoglierete avete seminato negatività raccoglierete negatività avete seminato positività e allora seminerete positività io mi chiedo perché avete così tanto paura di credere nel positivo perché il vostro ego vi dice no poi rimarrai disillusa continuate dai rimarrete disillusi finché continuerete a dargli retta ok iscrivetevi al canale pollice in su grazie e vi aspetto al prossimo video pace amore energia via